nella nostra terra e in generale a questo Paese, che noi dobbiamo rendere il tema della violenza contro le donne un tema trasversale della nostra società, non ha colori politici, non ha appartenenti, ma ha una dimensione fondamentale che è quella del contrasto a forme inaccettabili di possesso delle persone che vanno dallo sfruttamento economico e oggi vorrei ricordare Sara e Aurora che sono le ultime vittime di violenza sulle donne, perché anche quella socio-economica è una violenza che compare in queste storie, in storie di natura economica e basta, ma che comunque rappresentano nel complesso una dimensione che deve oggi essere percepita al di là della ritualità degli incontri e degli eventi di ricordo, deve servire tutti i giorni a costruire una cultura diversa nella quale l'accoglienza rispetto alla condizione tendinile deve essere un elemento di qualificazione dell'azione istituzionale e della ciascura.